25 milioni di euro destinati al potenziamento del traffico aereo per l'apertura di nuove rotte da e per la Sardegna grazie all'approvazione di un emendamento della Lega che riproduce il testo di un disegno di legge della Giunta. Va così delineandosi un modello dei trasporti aerei sardi che è complementare a quello della continuità territoriale da un lato per rafforzare il diritto alla mobilità dei sardi e dall'altro verso una destagionalizzazione che renda accessibile la Sardegna tutto l'anno.